salve a tutti ragazzi bentornati o benvenuti sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video oggi andremo a scoprire un programma che va a simulare una sorta di carriera all'interno di flight simulator 2020 è comunque un programma gratuito ce ne sono diversi che fanno questa questa cosa chi è gratuito chi ha pagamento ognuno ovviamente alle sue differenze quindi basta che cercate insomma su google e se ne trovano veramente tanti oggi andiamo a provarci questo new fly vi faccio vedere il sito anche per poterlo scaricare appunto quindi è possibile raggiungere tramite il sito nofly.net andiamo nella sezione download e qui c'è la possibilità di scaricare o direttamente il folder quindi la cartella senza doverla installare poi la posizionate dove meglio credete oppure l'installer vero e proprio che come qualsiasi installer insomma vi guida all'installazione appunto del programma poi abbiamo la possibilità di scaricare il new pad è praticamente una sorta di tablet che possiamo aprire all'interno del gioco e ci dà tutte le informazioni che ci servono per la nostra per il nostro volo ovviamente non è obbligatorio scaricarlo per quelli che magari ecco non vogliono avercelo in gioco ma possono spostare il programma originale su un altro schermo oppure tutte le volte bisogna fare alt tab per passare dal gioco al programma per appunto controllare le varie informazioni con questo avrete tutto all'interno del del gioco direttamente poi ci sono degli altri file diciamo una sorta di di oggetti in più che si possono installare all'interno del gioco vengono tutti inseriti nella cartella community di flight simulator anche il new pad deve essere per forza messa nella cartella community non sono obbligatorie perché comunque aggiungono semplicemente una sorta di di realismo diciamo all'interno del gioco in quanto per esempio in caso in cui dovessimo fare una missione di soccorso ci ritroveremo nel punto in cui atterriamo con degli operatori con un'ambulanza o comunque con una cartella appunto per aumentare in più il realismo ci troveremo con un aereo per esempio schiantato o altro quindi diciamo che sono consigliati però ecco non sono assolutamente obbligatori decidete voi appunto come potervi muovere idem per quanto riguarda il cesna 152 perché appunto ci dà la possibilità di sbloccare delle altre missioni appunto dedicate all'aereo quindi una volta effettuato il download ed installato ci ritroveremo con il il programma questo possiamo intanto chiuderlo quindi ci troviamo appunto in questa schermata dove possiamo andare a creare il nostro alter ego ora lo vedete scritto in italiano perché una volta effettuato l'accesso si può andare a modificare la lingua altrimenti all'inizio ve lo trovate in in inglese in verità un po mezzo italiano e mezzo inglese non è stato ancora tradotto completamente però insomma non si capisce allora dobbiamo crearci diciamo il nostro appunto al 3 che il nostro pilota quindi su alias potete mettere quello che vi pare il vostro nome vostro nick mettete quello che più vi piace quindi io per esempio metto ocelot su icao dovete andare inserire il codice icao dell'aeroporto in cui volete iniziare potete iniziare su qualsiasi ovviamente aeroporto in questo caso io mi trovo già a ciampino quindi inserisco il codice icao che è l'ira questo procedimento potete farlo anche con il simulatore spento io ora l'ho già acceso per evitare insomma i tempi di caricamento eccetera quindi potete fare questo questo procedimento benissimo anche senza il simulatore aperto poi una volta che lo aprite ci sono tutte le altre cose che potete fare altra cosa che vi fa scegliere l'aereo di inizio questo caso vedete se avete scaricato il cesna 152 lo troverete qui oppure lo lo skyhack g1000 che è quello che ho utilizzato io oppure x cab dipende quello che più vi piace il cesna perché ce l'abbiamo già caricato per quanto riguarda qui il profilo ci sta tre diciamo preset il per il personalizzato il pro o il survival e vi consiglio di mettere il personalizzato perché poi nelle opzioni potete andare a selezionare voi liberamente le varie opzioni che volete attivare o meno mentre se scegliete già un preset poi non potete tornare indietro diciamo quindi selezionate personalizzato poi vi scegliete quello che più che più vi piace quindi completato tutte le le informazioni da inserire andiamo su aggiungi ok il pilota è stato aggiunto e lo trovate qui in basso quindi possiamo fare su start ora non so se verità si possono aggiungere più di un pilota non ci ho provato però potrebbe insomma visto che qua volendo ci dà la possibilità di poterlo scegliere comunque qui eventualmente potrete anche eliminarlo in caso in cui insomma volete cambiare qualche cosa quindi facciamo su start aspettiamo un pochettino e si dovrebbe aprire eccolo il il programma ora ve lo metto a tutto schermo ok allora potrebbe essere confusionario ovviamente all'inizio perché insomma ci sono un per po di cose ma ora le andiamo a vedere un pochettino con con più calma allora per prima cosa una volta che avete appunto aperto il programma e vogliamo andare a cambiare del delle opzioni dovete fare altro aspettate forse volete così è più semplice perché magari vedete meglio allora in utilizzando la barra questa qua in alto l'ultima anzi la penultima icona è questo ingranaggetto che ci va a visualizzare le opzioni verso la parte centrale qui ci sono impostazioni di gioco e c'è lingua ovviamente in inglese language cliccate qui e scegliete appunto l'italiano vi farà confermare si riavvierà il programma se non ricordo male e lo avrete in inglese ripeto alcune voci sono ancora rimaste ciò lo avete in italiano alcune voci sono rimaste in inglese però insomma la maggior parte si capisce insomma qui come vi avevo detto in verità trovate anche le altre opzioni quindi di personalizzato vedete avete le opzioni della modalità pro già attive che sono queste sotto ovviamente passandoci con il mouse vi dà una sorta di descrizione mentre se volete attivare anche alcune basta che ci cliccate sopra vedete e lui le va ad attivare o meno per questo ho detto magari scegliete quello personalizzato poi andate qui e modificate quello che più che più vi piace qui in basso poi ci sono degli altri addon che possono sono visibili anche nella nella pagina del download praticamente un cambio diciamo di piccole donazioni il diciamo il programmatore dell'applicazione vi dà la possibilità di scaricare queste questi pacchetti diciamo che vi danno delle aggiunte in più in missioni in voci del controllore insomma qualcosa che ovviamente vi diversifica diciamo da chi ha la versione base ovviamente se ne voglio scegliere se farle o meno tutto il resto poi potete andare a vedere alcune opzioni io per il momento non ho non ho mosso niente per quanto riguarda le le chiavi qui in alto che vi dice sia del meteo che del del di bing perché praticamente il programmatore ha utilizzato la mappa di bing per visto per essere visualizzata qui infatti qua in basso porta la dicitura di bing questo quadrato bianco che vedete che questo cioè non potete togliere semplicemente nelle versioni vecchie riportava all'avviso che bisognava inserire la chiave di sviluppatore diciamo per poter utilizzare la mappa di bing quindi c'è tutto un processo che bisogna fare sul sito di bing registrarsi come development eccetera per poter poi avere una chiave da inserire qui salvarle in questo caso vi andrà a togliere questo quadrato io vi consiglio lasciare perde tanto alla fine cioè ci si vede non vi serve il guardare attraverso questa mappa insomma poi se volete fare il processo potete farlo cercate su google sicuramente c'è una guida a riguardo idem per quanto riguarda il il meteo anche se non ricordo dove bisognava andare a richiamare la la key però sul sito anche nella cartella che scaricate per l'installazione ci sono tutte le guide che vi spiegano passo passo sia come funziona il programma sia come poter poi inserire queste informazioni che vi mancano ora andiamo un po più nel nel dettaglio perché vogliamo vedere un po che cosa si cosa ci mette a disposizione allora nelle missioni è il pannello diciamo principale viene diviso in due sezioni anzi in tre scusate quindi abbiamo la ricerca in questo caso lui cita già all'aeroporto che abbiamo scelto all'inizio quindi è l'ira e quindi ha trovato diciamo e cercato delle missioni che partono da questo aeroporto ce ne sono diverse vedete diverse anche la tipologia di di missione in più abbiamo la spunta qui che ho messo io praticamente lui ci va a filtrare direttamente in base alle emissioni che corrispondano al nostro grado perché ovviamente partiremo dal grado più basso per questo possiamo pilotare soltanto magari un cesna o degli altri per poi poter proseguire con i nostri gradi fino ad arrivare ai classici aerei di linea quindi potete mettere direttamente la spunta qui lui ve li filtra e già avete quelli che avete a disposizione se io li vado a togliere aumentano decisamente di più ci sono quelli che hanno ad esempio il pallino rosso che sono quelli che non possiamo non possiamo andare a fare perché appunto non abbiamo il grado come come necessita appunto la missione quindi vi consiglio di metterla così ve li filtrano automatico e via l'altro filtro è quello ovviamente in base all'aereo quindi nel caso in cui non avessimo l'aereo è inutile che ci va a visualizzare missioni che non abbiamo in questo caso vedete c'era già torte qualcuna anche qua perché appunto non abbiamo l'aereo che ci serve quindi visto che all'inizio ve le fa scegliere tre e ho utilizzato il cesna per le missioni in cui utilizzavamo il cesna 152 io non avendocelo in questo momento è inutile che me le visualizza e aumenta soltanto la lunghezza delle missioni quindi mentre per quanto riguarda l'altro mi ci rigenerano le missioni solo con piste dure che non ho ben capito ora poi la traduzione ovviamente è un po' così credo che faccia riferimento alle piste con asfalto perché l'icona sembra esserci con asfalto perché ovviamente lui genera missioni anche che magari vi fa atterrare su un'aereovia oppure un campo insomma non necessariamente deve essere asfaltato ecco quindi se volete evitare di fare questo ovviamente mettete la spunta qui poi fate con il tastino qua che rigenera e lui automaticamente va a rigenerarsi le varie missioni poi più in basso ovviamente abbiamo altre tipologie di emissioni per quanto riguarda la lunghezza se vogliamo filtrarli per per tempo diciamo per lunghezza idem per quanto riguarda le le tipologie vedete questi sono passeggeri carico express fragile vip poi ci sono delle altre che che ho tolto ci sono veramente di tutto di più per esempio ho tolto anche quello dell'elicottero vip che a parte che non non c'è l'elicottero e poi non saprei mai non l'ho mai pilotato quindi non saprei come utilizzarlo mi sa che ma qui ce l'ho in verità nel gioco comunque potete togliere così per esempio questo risalvataggio illegale insomma scegliete voi e lui vi filtrerà l'elenco come come avete deciso voi io per quanto riguarda il me il peso i passeggeri distanza insomma tutto quello che che volete vuole lui li filtra sia che vogliamo magari un anteraggio con gli ls oppure oppure no eccetera quindi veramente potete personalizzarvi la scelta come più vi piace mentre nella sezione in basso invece denominata appunto mercato aereo abbiamo la possibilità di eventualmente comprare dei dei aerei perché appunto nel caso in cui andiamo ad aumentare di grado possiamo pilotare aerei diversi che ci danno ovviamente accesso a missioni differenti che ci pagano di più eccetera quindi per forza di cose in questo caso ci dà diciamo il mercato appunto degli aerei la tipologia di aereo la categoria di aereo dove è posizionato e ovviamente il prezzo quanto pesa insomma tutte le caratteristiche dell'aereo perché all'inizio vedete qua in alto sparo si lega insomma avrete come capitale 10.000 euro quindi dovete iniziare con quello per quello all'inizio vi fa scegliere un aereo per lo meno potete iniziare a fare missioni con con quello lì e non avete bisogno di niente poi una volta che avrete messo da parte un capitale per esempio per un airbus 320 ci vogliono 24 milioni di dollari insomma quindi a voglia a fare a fare missioni poi abbiamo la possibilità di fare sposta il pilota perché praticamente una volta che vi siete spostati dall'aeroporto di partenza all'aeroporto di destinazione sia l'aereo sia il pilota stesso rimane in quella posizione quindi abbiamo due opzioni o cercare un lavoro in quella zona che magari ci riporti all'aeroporto di destinazione cioè di partenza la nostra base che in questo caso io ho scelto Ciampino oppure da lì andare da un'altra parte nel caso in cui non volessimo affrontare il viaggio perché tecnicamente poi va fatto il viaggio possiamo decidere di di spostarlo in questo caso appunto scegliamo l'Ikao dove vogliamo andare a spostare il nostro il nostro pilota e o facciamo vola verso quindi facciamo noi il viaggio quindi noi diciamo al sim al programma guarda ci stiamo spostando però lo stiamo facendo noi quindi non c'è bisogno che ci fai pagare per questo oppure paghiamo e ci scalerà appunto dei soldi automaticamente il nostro pilota sarà spostato nell'aeroporto che gli abbiamo gli abbiamo dato noi qui vediamo velocemente le altre opzioni qui in alto il mercato anche qui abbiamo la possibilità vedete di comprare degli oggetti per esempio qui possiamo comprare degli oggetti appunto che potrebbero un iphone per esempio la birra o gli orologi insomma oggetti che magari ci servono da poter rapportare e possiamo anche decidere quanti e tutto quanto quindi veramente c'è una gestione anche manageriale del del tutto perché una volta che abbiamo comprato dei degli oggetti magari appunto degli orologi perché sappiamo che ci saranno missioni che ci chiederanno appunto questi orologi ci serve un posto dove poterli andare a mettere quindi dovremmo comprare gli hangar per stoccare diciamo gli oggetti le merci ma anche per tenere i nostri aerei quindi quello è già un livello più alto di diciamo di simulazione manageriale poi per quanto riguarda la sezione voli questa quella che si aprirà una volta che si è pronti quindi possiamo andare avanti sullo staff qui abbiamo un resoconto della nostra carriera la nostra licenza le nostre statistiche i vari obiettivi volendo che possiamo andare ad avere insomma hangar in punto è quello dove dove siamo in questo momento abbiamo la possibilità di acquistare anche del del carburante vedete ci sono alcune opzioni che ci servono perché ovviamente facendo le tratte consumeremo carburante ci servirà per anche andarlo ad acquistare qua ci dice che ne abbiamo alcune nel nella base diciamo dove siamo in questo momento e nel caso in cui ne avessimo altre le comparirebbero qua in basso quindi poi abbiamo la sezione fbo anche qua ci sono delle altre che sono queste gestione e sono delle altre missioni ora non è che me ne sono visto praticamente tutto ma sono comunque delle altre delle altre missioni e dovrebbero cambiare qualcosa da queste parti comunque altre tipologie di di missioni poi ripeto c'è tutto all'interno del manuale che trovate all'interno della cartella di installazione poi qua c'è il registro dei dei voli poi abbiamo qui c'è già visualizza insomma quello che che ho fatto in precedenza le varie finanze e tutto quanto la possibilità di chiedere eventualmente dei prestiti se vogliamo andarci a comparare dei ieri c'è la possibilità anche del multigiocatore che non ho capito ancora come si fa e in più ci sono delle missioni di campagna in questo caso una sorta di simulazione per quanto riguarda la la pandemia ci sono vari step da fare ovviamente riceveremo qua c'è anche la distanza i soldi che riceveremo anche i punti xp quindi se volete scimentarvi in questa in questa sorta di di missioni potete assolutamente farli come extra oltre a quelle che sono già presenti all'interno del del gioco allora andiamo a vedere un po più nel vivo come come fare allora qui intanto non ha capito perché ci ha tolto tutte le le missioni ok queste sono le varie opzioni sulla sulla mappa ok allora per quanto riguarda la mappa ora tralasciando insomma questo quadratino che vi ho spiegato che cos'è possiamo andare a vedere il punto dove dove siamo noi in questo momento quindi qui a lira è la nostra è la nostra base intorno ci dà appunto delle diciamo delle missioni che sono le stesse che vedete qua però qua ci da ci fa visualizza la posizione allora andiamo a vedere magari che cosa possiamo andare a fare allora vediamo un po riordiniamolo magari per distanza giusto per fare qualcosa di di non troppo lungo allora questo qua bisognerebbe portare dei passeggeri abbiamo tre passeggeri con un peso di 501 libri da lira a lip che dovrebbe essere qua quindi è i prenescina nuova non lo so che che cos'è forse è un campo di volo insomma qualcosa del genere rotta 47 distanza sotto mia pagamento 949 dollari e riceveremo 60 xp e questa è la la scadenza perché ovviamente dopo un po vanno a rifresciarsi le emissioni quindi questo sarà attivo fino al 24 5 oggi da quando sto registrando il 20 quindi ripara attiva ancora per un po non abbiamo nessun requisito quindi volendo possiamo farla liberamente altra per esempio quella sotto invece è un'emergenza vede a terra il più vicino possibile all'incidente per lasciare il dottore in questo caso vedete dovremmo regarci qui quindi in una strada più o meno e dovremmo appunto atterrare di solito queste magari con il cesna potrebbe essere complicato potrebbe essere figo invece utilizzare un elicottero perché è decisamente più semplice l'atterraggio mentre con il cesna magari avresti un po più di distanza da percorrere per fermarsi e quant'altro però lui ce la considera come una di quelle che volendo possiamo possiamo fare anche questa è un'emergenza da qui vicino a ostia praticamente però vediamo una un po più ok dai questa ci potrebbe fare se potrebbe fare atterreremo da da queste parti qui vicino a guidonia montecelio ok anche qua dovremmo portare dei passeggeri sono due passeggeri e tutto quanto rotta 29 ci dà già i gradi che dobbiamo andare eventualmente a seguire ora per quanto riguarda la rotta il programma vi lascia carta bianca nel senso volete organizzarvelo prima cioè per quello avevo detto che potete aprire il programma prima del simulatore perché magari volete pianificarvi la rotta direttamente nel gioco quindi date aeroporto di partenza destinazione e scegliete usate la rotta che vi crea il gioco oppure potete utilizzare un altro programma oppure utilizzate il navigatore all'interno del dell'aereo e mettete direttamente le coordinate veramente potete fare come volete l'importante è che arrivate nella nella destinazione che vi ha detto il programma il come sta a voi non è non ci sono limitazioni l'importante ovviamente dovete utilizzare uno degli aerei che avete a disposizione se no ovviamente non ha non ha senso non ve lo conto come come fatta allora diciamo che vogliamo farci questa poi ovviamente magari il viaggio ve lo salto allora come come la scegliamo tasto destro qui vedete ci sono ci sono alcune opzioni vola insieme credo sia per il multiplayer scegli l'aereo e il pilota perché nel caso in cui noi andassimo eventualmente ad assumere un pilota possiamo decidere guarda questa missione te la fate utilizzando quest'altro aereo in questo caso dobbiamo per forza cosa farlo a noi perché non abbiamo possibilità oppure possiamo affittarci un aereo dal dal mercato perché magari vogliamo fare questa questa missione con che non so che richiede la 320 e non voglio comprarmelo perché costa un casino e ce lo affittiamo ammesso di avere i soldi per pagarlo quindi potete ovviamente decidere voi però visto che ci abbiamo quello che ci serve facciamolo su vola ok quindi ci apre la missione la pagina scusate che vi avevo detto prima la sezione volo in questo caso ci da alcune informazioni quindi è una missione di passeggeri 300 libri totali numeri passeggeri 2 la la destinazione quindi partenza e arrivo la distanza sul 13 miglia e tutto quanto quanto verrà pagato nessun tipo di richiesta eccetera quindi come facciamo una volta che siamo qui andiamo fa connect e fly ovviamente in questo caso dovete avere il simulatore attivo con il l'aereo che avete scelto quindi in questo caso appunto il cesne è posizionato nell'aeroporto in cui effettivamente è l'aereo in quel momento nel nel gioco quindi se siete atterrati a fiumicino e dovete fare una missione da fiumicino non potete partire da ciampino perché ovviamente vi trovate in un posto sbagliato quindi per forza di cose dovete partire da fiumicino in questo caso appunto siamo corretti quindi andiamo a fare su connect e fly lui si fa alcuni alcuni check quindi vediamo un po ci sono alcuni pallini rossi in questo caso è motore acceso e rosso perché ovviamente è spento e un altro diciamo errore è il carico in questo caso appunto dobbiamo aggiungere altri 130 libri rispetto a quelle che abbiamo noi in questa sezione sotto ci dice anche quanto carburante eventualmente andremo ad utilizzare il 160 libri quindi bisogna cercare di prestare attenzione vedere appunto se abbiamo carburante a sufficienza nel nostro aereo allora spostiamoci ora nel simulatore perché appunto dobbiamo farci questi questi accorgimenti quindi dobbiamo sistemare il carico e il carburante ok spostiamoci quindi nel nel gioco e come abbiamo detto dobbiamo andarci a controllare il carico quindi andiamo sopra andiamo su carburante che ci dà sia la visualizzazione del carburante ma anche del carico utile e vediamo un po che cosa dobbiamo aggiungere allora riaviamoci un attimo il programma abbiamo detto che dobbiamo aggiungere dobbiamo avere un peso totale di 470 libri vediamo un attimo carico utile 440 quindi dobbiamo aggiungere ora io ho spostato le unità di misura l'ho messa in imperiali perché almeno se no devo fare la conversione è un casino faccio vedere velocemente come fare per cambiare opzioni generali varie e mettete qua unità di misura dovete specificarlo perché se lasciate ibrido vedete da per forza in chili non lo va a cambiare lui mentre se lo forzate in imperiali lui vi da i libri galloni e quant'altro quindi ritorniamo un attimo qui velocemente anche perché poi qua potete switchare i galloni o in libre anche il carico quindi abbiamo detto 340 dobbiamo arrivare a 470 quindi aumentiamo un pochettino qua fino ad arrivare a 470 sentite nel momento in cui raggiungiamo quindi il carico corretto si attiva e ci dà questa cosa che stanno caricando praticamente i passeggeri se andiamo nel programma nel log qui viene descritto insomma adesso c'è scaricamento in barcaricamento in barco per questo sono i 13 e 35 vedete poi vabbè sul cesna questa con i tacchi vabbè se ne perdi i suoni ovviamente sono standard però aumenta il diciamo il realismo quindi la lucetta qui ora è tornata verde perché appunto abbiamo messo tutto quello che ci serve anche se qua ci dà missing 4 cioè abbiamo messo di più di quanto dovevamo mettere in torino dovremmo scendere di 4 libre però vabbè va benissimo così controlliamoci invece il carburante che in totale dovrebbero essere 160 libre noi abbiamo 168 quindi va bene dai lasciamoci qualcosina un po' per la riserva allora quindi i passeggeri sono a posto dovete aspettare che faccia tutti questi questi passaggi quindi non è che una volta avete messo prendete partite perché ve le può segnare diciamo come errore e in quel caso vi può togliere punti esperienza o soldi quindi a bene pazienza tanto avete sentito ci mette veramente un attimo qui poi sulla mappa ora che siamo diciamo pronti è comparsa anche il nostro segnalino con l'aereo che ci visualizzerà su questa mappa effettivamente dove dove siamo quindi abbiamo tutto tutto pronto dobbiamo pianificarci invece la rotta andiamoci a accendere il nostro cesna velocemente ok togliamo questi ok allora andiamoci a pianificare prima la rotta e poi lo mettiamo in moto perché insomma già stiamo un po' così con il carburante ripeto per pianificare potete utilizzare il modo che volete siete veramente liberi io lo sto facendo adesso perché non l'ho fatto in precedenza ma potete anche utilizzare il sistema all'interno del gioco non ci sono assolutamente problemi allora abbiamo detto partiamo da l'ira quindi fgh l ovviamente qua è un po' più lunghetta la cosa perché ci si mette un po' l'ira ok enter ok e arriviamo abbiamo detto all'aeroporto di lirg quindi di nuovo l li r fg aeroporto militare guidonia ok bene basta che non ci sparano così ok quindi abbiamo inserito in maniera diciamo brusca tra virgolette una rotta così in maniera proprio grezzissima una rotta che ci porta con il gps dal punto di partenza al punto di arrivo quindi andiamoci a vedere un attimo velocemente svecchiamo il cdi in gps e questo lo spegniamo mettiamo il vento ok ed anche i gradi back back e possiamo mettere in moto direi abbiamo un po' di manetta andiamo a girare la chiave e ok bacon taxi e strobo e direi che possiamo andare diamo un po' di gas andiamo a togliere i freni di parcheggio e via tra l'altro approfittiamo anche per vedere i nuovi scenari oddio qua c'è qualcosa di grosso avrei dovuto fare un pushback in quanto di recente è uscito il world update 9 per quanto riguarda l'italia e l'isola di malta e di recente c'è stato anche un fix perché insomma gli arbitri erano cresciuti decisamente troppo in italia alcuni erano alti quanto i palazzi se non di più cioè che è una cosa impressionante oddio che gli è successo a quello? ma perché alcuni partono tipo elicotteri? non l'ho capita sta cosa non so sto giocando online quindi non so il perché quello faccia così non me lo chiedete non ne ho la più palida idea insomma va bene sono tornato a votare online perché comunque sono usciti degli eri interessanti insomma giusto per avere qualcuno con cui volare però insomma vedo cose che insomma non ho ben capito vabbè non ci facciamo troppe domande cacceletto di entrata via le taxi accendiamo le nav però non arrivi nessuno non ho controllato è destra libero sinistra libero quindi partiremo verso verso nord quasi poi prua a 27 gradi e arriveremo appunto verso l'aeroporto di Guidonia l'aeroporto militare ovviamente utilizzerò il pilota automatico intanto tutta manietta nel caso in cui riusciate magari a fare anche un buon atterraggio eccetera alla fine dei conti vi da anche un piccolo bonus di punti xp che insomma non fa mai male ok direi che possiamo salire piano piano 80 nodi ok in questo momento come ci ha avvertito ci stanno diciamo monitorando da qui in poi parte effettivamente il nostro volo allora andiamoci a mettere un flight director andiamo sull'autopilota e andiamo a mettere il nav così lui si va a seguire il gps direi che 3000 piedi possono bastare anche se in verità dovrebbe essere anche abbastanza beh insomma non è proprio vicinissima la rotta comunque iniziamo con 3000 piedi poi vediamo perché comunque ci sono delle montagne da andare a superare e vabbè ero partito pure senza flappo vabbè non è un grosso problema questo comunque le luci sono ok e niente in questo momento bisogna semplicemente attendere di arrivare a destinazione insomma per quello intanto vediamoci come hanno modificato un po' la città di roma e altre anche città italiane hanno aumentato per alcune città la fotogrammetia allungandola ancora di più se vi ricordate magari avete volato verso roma la parte centrale diciamo il centro principalmente era in fotogrammetia e c'era molto distacco tra la parte esterna e quella interna se vedete un pochetto in verità ora magari in questa angolazione no però se fate caso c'è una parte in cui magari è un po' più scura che taglia di netto tra una parte e l'altra però veramente sono piccole cose il panorama è sempre molto bello per fortuna non ci sono nuvolosità insomma è una buona giornata per volare ci facciamo questa tratta e vediamo appunto poi com'è la situazione allora vi faccio vedere cosa succede diciamo sul programma vedete ora ci sono tutti i vari puntini che fanno vedere quello che stiamo facendo noi e appunto ci stiamo allineando con la rotta quindi in tempo reale possiamo vedere all'interno del programma cosa sta succedendo ovviamente qui ci dà rosso in quanto ci stiamo uno intanto i freni di parcheggio li ho tolti perché stiamo volando idem per quanto riguarda l'aeroporto perché appunto ci stiamo muovendo non siamo più su quello di partenza l'importante è che questi prima di partire siano entrambi cioè sono tutti verdi appunto perché stiamo nella posizione corretta nel luogo corretto e tutto quanto qui ci sta dicendo appunto velocità a 77 nodi e ci siamo insomma vediamo un po' penso che devo salire un po' di più in verità perché 3.000 piedi sono un po' piccolini vediamo un po' magari 5.000 piedi vai in vertical speed andiamo a diminuire anche un po' la manetta perché qua stiamo un po' troppo ok anche perché comunque ora che stiamo salendo la velocità ci sta che va a scendere si balla un pochetto in verità c'è un po' di vento a Roma in questo momento quindi insomma ci sta che si balli un pochetto ovviamente questo non va ad incidere sulle condizioni generali del volo non è che vi penalizzano perché c'è un po' di turbolenza alla fine ci potete fare niente però proprio come viene diciamo fatto il volo insomma magari virate brusche o sali e scendi insomma dovete fare una tratta abbastanza tranquilla poi ripeto condizioni meteo sono quelle che sono in quel caso non potete farci niente allora vediamo un po' quanto ci dice che manca 6 miglia insomma 6.7 miglia ovviamente in avvicinamento ci stiamo dirigendo in in quella in quella direzione allora vi spiego cosa fare poi una volta che siamo arrivati ovviamente fate l'atterraggio nel miglior modo possibile perché comunque viene monitorato anche il contatto con la pista quindi se siete magari troppo bruschi o altro e bisogna poi uscire dalla pista parcheggiare e nel momento in cui mettete i freni di parcheggio per il programma il volo viene terminato quindi automaticamente sentirete lo scarico diciamo dei passeggeri e automaticamente appunto monitorando il programma farà il calcolo vi darà i soldi e terminerà in automatico quindi dovete semplicemente avere un po' di pazienza che faccia tutte le cose che deve fare lui insomma quindi non forzatelo non chiudete il programma prima che abbia terminato il volo altrimenti perdete quello che avete appena fatto ok ci siamo ci siamo quasi in verità ora non so se siamo prima o dopo le montagne alla fine non è che insomma ho mai ho mai atterrato una base militare di guidonia quindi di dove sia prima delle montagne vediamo un po' se vedo non è questa è questa è questa qua e allora aspetta non c'è da salire aspetta per questo vi dicevo la pianificazione ovviamente dovete farla dovete farla voi in questo momento poi potete scendere cioè potete decidere voi come poter come potervi muovere nel senso l'importante è che atterrate e parcheggiate il resto la pista decidete voi fate tutto come più vi aggrada insomma da questo punto di vista come vi ho detto all'inizio avete veramente carta bianca quindi non ci sono problemi allora pista l'abbiamo vista che è questa vi direi di proseguire dritto ci facciamo un sottovento sinistra poi giriamo e atterriamo magari una piccola diciamo pianificazione iniziale sarebbe comunque comoda giusto per vedere come è fatta la pista da che lato vediamo veniamo perché ovviamente utilizzando il il gps lui ci porta al centro dell'aeroporto non è detto che ci porti ovviamente allineati alla pista quindi rischiamo che comunque sia una manovra diciamo poi di avvicinamento dovremmo sempre farla quindi una piccola pianificazione magari è bene farla anche tramite la mappa di flight simulator vedete più o meno come sono allineate le piste e tutto quanto giusto per avere appunto un'idea allora siamo siamo qui sì quindi la pista è comunque quella io pensavo fosse più lontano in verità per quello mi stavo alzando volendo avremmo potuto tenere anche 2000 piedi però va bene pure così allora utilizziamo un attimo questo passaggio per poter scendere perché insomma stiamo siamo altini atterreremo quindi da questo da questa parte qui per poi scendere teniamo un po' 500 piedi al minuto circa direi che possono che possono anche bastare questo vento non aiuta vediamo un po' pista ancora in vista qui a sinistra ci dobbiamo allontanare ancora un po' però ecco ne dobbiamo approfittare per scendere magari andiamo un po' più marcati perché insomma stiamo altini 3000 piedi stiamo comunque altini beh si balla un pochetto ci sarà da divertirsi una volta che siamo in fase di avvicinamento perché insomma c'è c'è un po' di turbolenza qui poi siamo anche vicini un po' le montagne ci sta insomma la pista è lì c'è anche questo promontore non so se è proprio in linea con la pista o è subito dopo non lo so ma vediamo sarebbe stato più utile ovviamente venire da quest'altro lato che è più in piano però già che stiamo da qua facciamolo da quest'altro lato allora giriamo verso destra ovviamente con questa tipologia di aereo è più semplice fare manovre nel genere però magari poi quando ce ne avremo quelli più importanti ok che comunque andremo su aeroporti un po' più grandi quindi la pianificazione dovrà essere sicuramente migliori non è che con un A320 partiamo con una rotta GPS punto punto lì ci sarà da fare la pianificazione come abbiamo sempre fatto con la rotta insomma quindi è sicuramente un filino più alta la simulazione in quel frangente però appunto bisogna farla se no non ci arriviamo allora intanto accendiamo le luci di landing io direi che di flap possiamo pure mettere controbilanciamo un po' con il trim sto virando sperando di vedere la pista che mi sbuca eccola lì si è praticamente allineata con il promontorio non ci voleva vabbè dovremmo farcela cerchiamo di diminuire ancora un po' la velocità perché se no arriviamo veramente lunghi e rischiamo di non fermarci ok per quello vi dicevo per le missioni capito un attimo tranquillo per le missioni quelle di soccorso soprattutto magari in città e altro lì l'ericottero sarebbe ovviamente il top perché insomma capite che quel cesna si può fare però ve la dovete organizzare bene per appunto i maggiori lunghezza sia di frenata sia di velocità che servono appunto per per l'aereo per fermarsi e tutto quanto mentre l'ericottero ovviamente è statico sta fermo e scende in maniera perpendicolare quindi decidete bene ecco cosa andate a scegliere come missione in base all'aereo non mi piace proprio questo avvicinamento perché siamo tremendamente veloci 109 tremendamente veloci avrei dovuto fare il giro dall'altra parte vediamo se riusciamo a fare qualcosina ma l'avito difficile però la pista è lunghietta magari ce la facciamo magari lo porto giù velocemente che abbiamo un po' di pista ok 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 cerchiamo di frenare prima di tornare al parcheggio ok ok per fortuna stavamo concesa insomma siamo scesi quasi a 100 nodi non è stato proprio il top allora diciamo che possiamo anche fermarci qui ovviamente non è che serve un punto preciso volendo potete anche mettere il freno di parcheggio in mezzo alla pista insomma da questo punto di vista non vi cambia niente c'è pure una sorta di di ls però insomma sono le luci per l'avvicinamento abbiamo proprio scelto la parte sbagliata per l'atterraggio vabbè ora parcheggiamo qua giusto per fare prima insomma quindi fini di parcheggio ok sta facendo le varie operazioni adesso di scarico sentite in realtà noi possiamo spegnere luci landi le beacon insomma tutte le luci le possiamo spegnere andiamo a vedere anche sul programma che cosa dice vedete ci fa vedere tutta la rutta che abbiamo fatto ci fa anche vedere dove abbiamo fatto l'atterraggio e in questo caso appunto vedete sta facendo il lo farco insomma dei passeggeri ok missione completata con successo perfetto quindi la missione è andata e in questo caso vedete in questo momento è finita lo capite perché qui ora diciamo si è staccato dal collegamento con il gioco e in più ci ha dato i punti esperienza vedete buon comfort più il 5% dei punti esperienza un buon atterraggio addirittura più 10% quindi in totale abbiamo preso 59 xp e abbiamo consumato 9 libri di carburante così proprio vabbè meglio così insomma e quindi ora volendo andando su campagna no dov'è quello ok vedete abbiamo i punti xp ci servono ancora abbiamo 69 punti esperienza per il prossimo livello dovremmo arrivare a 200 quindi insomma i primi livelli dovremmo passare abbastanza velocemente e le statistiche qua in teoria dovrebbe segnarci una per i passeggeri anche se non ce lo non ce lo dà forse si aggiorna poi successivamente questa era l'altra pagina nel caso in cui non volessimo andare a assumere un pilota qua c'è da tutte le varie informazioni a riguardo e questo è il è il programma ora in questa posizione diciamo abbiamo delle abbiamo due possibilità o come vi ho spiegato all'inizio facciamo il volo di rientro quindi andiamo qui su sposta il pilota mettiamo l'ira e mettiamo vola verso quindi partiamo con il nostro aereo e riandiamo lì perché altrimenti l'aereo si ritroverebbe qui e il pilota da un'altra parte non si può fare oppure paghiamo direttamente e ce lo sposta in maniera automatica oppure ancora possiamo fare un'altra missione per esempio perché poi lui automaticamente ci darà tutte le missioni che si possono fare dall'aeroporto in cui siamo quindi in questo caso vedete c'è un altro per esempio per quanto riguarda i passeggeri qui andremo un po' più più avanti al link non so ora che zona che zona sia via salaria autostrada del sole insomma c'è sarà un altro aeroporto da queste parti oppure questo che ci ritorna per esempio all'aeroporto di urbe ed è una consegna di un pacco insomma ci sono diverse cose secondo me non è male come programma giusto per avere qualcosa di diverso da fare e avere una sorta di scopo insomma anche perché in questo modo andremo a scoprire anche degli aeroporti che magari di regola non andremo a visitare e che magari ci permettono anche di fare un viaggio interessante appunto in zone che di default così giusto se uno conosce può andare a visitare quindi ragazzi direi che questo è tutto fatemi sapere insomma nei commenti se avete dubbi a riguardo ripeto non è non è difficile la configurazione altro poi magari gironsolate nelle varie sezioni e vedete un po' che cosa vi mette a disposizione ma alla fine potete anche evitare di comprare aerei piloti e quant'altro vi mettete a gironsolare con le varie missioni cioè magari ieri sì perché se no non poteva le missioni più grandi però insomma potete eventualmente evitare l'altra parte manageriale che è appunto quella dell'hangar degli oggetti da comprare lo staff da gestire e tutto quanto però se volete appunto utilizzarlo come diciamo generatore di rotte diciamo così di situazioni potrebbe essere interessante gli altri programmi che sono in giro diciamo oltre a questo tendenzialmente fanno tutti la stessa cosa però alcuni danno delle opzioni in più anche sotto la veste grafica insomma ovviamente cambiano qualcosa altrimenti la differenza tra quelli free e quelli a pagamento non ci sarebbe quindi fatemi sapere come vi ho detto che cosa ne pensate se avete dubbi commenti o se volete consigliarmene un altro magari di qualche programma che mi sia sfuggito fatemelo sapere nei commenti io come sempre vi ringrazio se siete arrivati infine in fondo vi invito se vi fa piacere lasciarmi un mi piace un commentino iscrivervi al canale se non l'avete fatto in descrizione trovate i link al server discord ai miei social network e alla mia attrezzatura e in alto a destra lei che vi riporta la playlist del titolo dove trovate tutorial per l'altro evento da fly by wire presto anche un altro tutorial di un altro aereo che sto cercando di sistemare insomma datevi un'occhiata perché c'è veramente tanta tanta roba nella playlist di nuovo vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao